...l'astro a fantasie più reali dai giorni in punto Le spalle sono scoperte, nonostante l'ascensorità e l'obbligo Il top and white per il ring e sono in live Questa stagione è stile al 2017 Quello è la futa ring per il pyjama style E' un nuovo tormentone Come per dare un messaggio di relax All'attuale Winktile Woman's Wings Ove, povere, verde militare Nei look giorno che si miscola E' rosa E' ancora un'inventa che si Con il cornellone, la vita di lunghe, la fantasia Da mixare in libertà Moda per gli spiriti nomadi Da indossare, mixare e abbinare tra loro Da portare in qualsiasi momento della giornata E sempre attuali A connessione giorno A connessione giorno A connessione giorno Sì 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti